Era diversa da tutti noi. È iniziata la vacanza. Era intelligente, profonda e fragile. Adesso è stata una nottataccia con l'estate, vero? Lei che perde la memoria. La povera Ariana che scompare. Sei stato tu! Sono anni che mi tormentate con questa storia. Io ad Ariana non ho fatto niente. Mi succede una cosa. Casa? Difficile da spiegare. Non si tratta di ricordini. Io c'ero, ero lì. 500 lire un ghiacciolo. Come avere 18 anni però con la testa di adesso. Che ti prendi? Per me uno spritz. Un che? Una sprite. Una sprite. Carlo, Lauretta, Adriano, Costanzo. Io ci sono tornato davvero. Dove? Non dove. Quando? Ammazza! Basta con quel vecchio! Ci avrà 40 anni. Eh, appunto, è vecchio. Beato te che c'hai un chiodo fissolo. Stai lontano da Ariano o ti ammazzo? Guarda avanti, non ti fare male. Dobbiamo andare via. Fidati di me. A volte cerchi, cerchi. E non ti accorgi che il colpevole ce l'hai davanti agli occhi. Posso capire che è stato. Posso salvarla? Sono strani i ricordi, eh? Le cose belle ti sembrano brutte, le cose brutte ti sembrano belle. Una cosa è sicura, io ultimamente non ti riconosco più. L'ho assomigliato un miliardo di volte. Perché proprio te? Cosa mi ricordo di quell'estate? Mi ricordo che eravamo felici. Non mi ricordo anche che il mondo ci faceva paura. Perché niente era veramente nelle nostre mani.